Vi faccio i miei migliori auguri per un 2021 sereno. Preparandoci però all'arrivo del nuovo anno è necessario essere consapevoli che è un momento di festa, ma è un momento in cui la festa va anche vissuta con senso di responsabilità. Chiederei a tutti di essere molto parsimoniosi nell'utilizzo dei fuochi d'artificio. L'ideale sarebbe quello di non utilizzarli. Ci sono molti motivi per cui è opportuno non utilizzare i fuochi d'artificio in questo momento. È opportuno non farlo perché comunque ci esponiamo ad un rischio di natura sanitaria e in questo momento qualsiasi evento possa contribuire a congestionare ulteriormente il pronto soccorso è una cosa assolutamente da evitare. Dobbiamo evitare l'utilizzo dei fuochi d'artificio perché comunque c'è un tema di impatto ambientale per le polveri sostili, per il benessere animale. Insomma ci sono molti modi diversi per festeggiare anche senza dover necessariamente ricorrere ai fuochi d'artificio. Invito tutti quindi a un senso di responsabilità. Divertiamoci, ovviamente senza sembramenti. Festeggiamo, magari a distanza. Tantissimi auguri a tutti per un 2021 finalmente sereno.